Ciao amici! Come vi avevo anticipato, presto compio gli anni. Io sono una persona a cui piace festeggiare il compleanno fin da bambina e non me ne vergogno. So che a qualcuno non piace, invece io l'ho sempre fatto, anche se gli anni passano. Quest'anno voglio festeggiare insieme a voi, gli amici del mio canale. Che bello! Ma quando festeggiamo? Festeggiamo il giorno del mio compleanno, il 16 novembre. Squaletto chiede se può venire anche lui. Certo, potete portare partner, amici, colleghi, genitori, figli. Così ci conosciamo tutti di persona e facciamo tanti bei selfie. Per me l'importante è che siate iscritti al canale. Anche YouTube ci tiene tanto, più siamo e più ci fa crescere. Quindi se non siete iscritti, fatelo subito. Click! Forza con le iscrizioni! Diventiamo una bella community trendy e sana. Recepito! Ma l'aperitivo dove e a che ora? Saremo a Milano, vicino al mio studio di naturopatia, ma in una location molto più adatta. Ci vediamo allo spazio aperitivi dello Sheraton Diana Majestic di Viale Piave 42, vicino a Porta Venezia, dalle 19 alle 20. Ma Simona, che fai? Siamo quasi 70.000 iscritti. Se offri l'aperitivo a tutti, ma ti rovini. Mi piacerebbe tanto, ma non è fattibile. Ci vediamo lì per un aperitivo. Chi ha piacere di consumare qualcosa può farlo. Chi vuole solo passare a salutare si senta libero di venire anche solo per due chiacchiere e un abbraccino. Va bene in ogni caso, l'importante è esserci. E io ci metto la torta. La torta! Ma come fai la torta per tutti? Lasciami parlare. Ci metto la torta virtuale. Nel senso che, siccome non so quanti saremo, perché è la prima volta che festeggio il compleanno con voi, amici di YouTube, io vi offrirò la mia torta di compleanno in forma di ricetta. Una nuova ricetta per un dolcetto speciale pensata apposta per voi. Davvero. Light, sano e buonissimo. Così, quando lo farete a casa, penserete a me. E sarà un modo di festeggiare insieme anche più a lungo. Pubblicherò il video proprio il 16 novembre. La ricetta non è mia, è di Serena. Già conoscete perché fai video di fitness, ma in realtà lei è anche una super chef di cucina vegana e crudista. Pensate che è la chef privata di molti personaggi importanti della moda, tra cui la superstar Jeremy Scott di Moschino, che quando viene a Milano mangia solo il cibo preparato da lei, con le sue mani. Ed è bravissima! Al bacio! Wow, però non so se io riesco proprio a venire. E chi non è di Milano come fa? Tranquilli, farò tante foto e riprese della serata e se la connessione wifi lo permette, penso di sì, anche una live dell'evento. Speriamo? Beh va bene dai, io ci sono di sicuro. Come posso mancare? Sono io! Eh già! Nei commenti scrivetemi se potete venire o se sarete presenti alla live. Intanto mettete tanti mi piace a questo video per festeggiare e io vi aspetto il 16 novembre, non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Nel frattempo sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!